Un regalo particolarmente gradito nella sede del Consiglio regionale in occasione delle celebrazioni ufficiali contro ogni forma di violenza sulle donne. La comunità di Pietrabbondante ha donato oggi all'Assemblea del Consiglio regionale di via 4 novembre un albero realizzato con l'uncinetto a testimonianza e ricordo della giornata internazionale contro ogni sopprusso sulle donne. Abbiamo voluto fare questo confronto presso il Consiglio regionale facendo confrontare anche questo scambio intergenerazionale. Ci sono le uncinettine sannite di Pietrabbondante che peraltro ci hanno donato al Consiglio regionale questo bellissimo dono, un albero realizzato dalle loro mani, in questo caso mani ricche di amore per dare un segnale forte e tangibile di dire no soprattutto alla violenza ma con questa bellissima scritta rifiorire perché l'intento è quello di mettere insieme tutti una serie di azioni per far rifiorire poi le donne che soffrono purtroppo spesso nella solitudine questo fenomeno. E questo è stato fatto poi insieme ai bambini dell'Istituto Comprensivo di Carovilli, quindi i bambini di Pietrabbondante che frequentano il plesso scolastico che sono venuti bellissimi qui presso il Consiglio a donarci dei piccoli cuoricini che loro hanno indicato insomma come un dono d'amore da rivolgere a tutti perché poi il messaggio che dobbiamo imprimere in questa giornata è proprio questo, noi dobbiamo diventare tutti portatori, ambasciatori di gentilezza, di sorrisi, di empatia ma soprattutto di amore e di rispetto.